Le torri di telefonia mobile che andranno installate nel comune di Pesaro hanno ora un piano revisionato, aggiornato e regolamentato per i prossimi tre anni. Piano intende che ieri il comune ha presentato attraverso un incontro telematico tenuto dall'assessora Maria Rosa Conti e dai responsabili comunali Mauro Moretti e Lara Giavalsecchi, referenti per urbanistica e inquinamento elettromagnetico, il tutto assieme ai responsabili dello studio Polab che hanno presentato un nuovo piano delle localizzazioni che sostituirà il precedente piano approvato nel 2019 e permetterà l'installazione degli impianti di telefonia mobile solo in determinate localizzazioni individuate sulla base di tre fattori. Lo studio del carico elettromagnetico, i programmi di sviluppo che ogni gestore è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno e che individuano le aree proposte dai gestori e gli aspetti finalizzati a minimizzare quanto possibile l'impatto paesaggistico degli impianti. Sulla base di queste informazioni si è riuscito a ridurre dal centinaio di nuovi siti proposti a inizio 2023 a circa 35 localizzazioni in aree pubbliche nelle quali i gestori dovranno installare i loro impianti nei prossimi anni. Localizzazioni ipotizzate che sono state trasmesse per concertazione anche ai quartieri, al municipio di Monte Ciccardo, al Parco San Bartolo e alla soprintendenza. I 13 presidenti di quartiere hanno partecipato all'incontro e valuteranno eventuali suggerimenti. Iliad, Team, Vodafone, Win3 e Fastweb gestiranno dunque 35 nuovi impianti con localizzazioni al momento individuate nelle aree pubbliche peseresi più disparate. Dal Porto al Parco della Pace, dalla Torraccia via Solferino, da Muraglia a Candelara, da Case Bruciate a Santa Veneranda, da Villa Ceccolini a Ginestreto. Il Comune nell'occasione ha assicurato anche l'impegno a destinare risorse per il monitoraggio da svolgere assieme ad ARPAM nel livello delle emissioni elettromagnetiche nel territorio. Grazie a tutti!